Gentili telespettatori, buona giornata. Caos dei comuni su che cosa? Sulle famose cartelle esattoriali da rottamare, il volgare condono che io ho sempre contestato, che alla fine è stato cancellato. Avete notato che io ho contestato il POS ed è stato cancellato, ho contestato il volgare condono, il volgare condono è stato cancellato, è rimasto solo l'aumento del contante a 5.000 euro. Questa è una bandierina per Salvini, infatti Salvini oggi ha detto sulla finanziaria c'è la chiara impronta della Lega. Va bene Salvini, la Meloni ha tirato il contentino dell'aumento del contante che la Meloni non condivideva per nulla ma ha dovuto per far staccare Salvini da Berlusconi, perché quei due messi assieme, come dice Verderami sul Corriere della Sera, da testimonianze di chi ha presenziato, si trovavano a pranzo o cena e faceva una gara a chi sparlava di più di Meloni. Ecco, insomma, che belli amici, che belli alleati, che bella coalizione direi. Pertanto Meloni ha detto, senti Matteo, staccati da quello là e io ti faccio realizzare le tue bandierine così risali nei sondaggi. E la Meloni ha dovuto lasciare la bandierina dei contanti. La Meloni avrebbe detto, ma che me frega a me, ma paga col banco, Matteo. Qualcuno dice, ma quella è libertà. Allora, tu vuoi pagare un mobile 5.000 euro in contanti? Va bene. E se lo paghi col banco, Matteo, cosa cambia? Niente. Dove viene privata la tua libertà? Se devi comprare una cosa, gli dai i soldi in contanti o gli dai il Bancomat, non cambia niente. Il Bancomat ti mette al sicuro per non farti andare in giro e farti rischiare qualche rapina con i soldi in contanti, perché quando sanno che tu giri con quei soldi lì potrebbe anche assaltarti, eh? Una rapina. Pertanto è più intelligente andare in giro col Bancomat che con 5.000 euro in contanti. Però, insomma, Salvini invece pensa che quella sia libertà. E molti commentano no, è la libertà di poter pagare in contanti. Contenti voi, eh? Avete voglia di andare al Bancomat a prelevare fino ad ottenere 5.000 euro in tasca costantemente per far vedere che tirate fuori il malloppo e pagate in contanti? Beh, contenti voi, contenti tutti, eh? Divertitevi con i vostri 5.000 euro. Poi tutta questa bella libertà. Dicevo andate in giro, sono libero di pagare il caffè in contanti e anche di comprarmi un mobile all'Ikea e pagarlo trac, trac, trac in contanti, no? Che soddisfazioni. Comunque, torniamo alle volgari cartelle da rottamare. Praticamente sono state cancellate, ma anche no. Cioè, che cosa c'è scritto nella manovra? Che il comune potrà decidere se cancellare quella cartella che è una multa o decidere di cancellare quell'altra cartella che è un'imposta, un contributo, un tributo. Pertanto verranno cancellate automaticamente tutte le cartelle esattoriali fino a 1.000 euro dal 2000 al 2015, che però non siano né multe né tributi. Cioè, praticamente, nessuna verrà cancellata automaticamente. Ma i comuni, su multe e tributi, decideranno se è il caso di cancellarli o no. Ma i comuni non le vogliono cancellare perché dicono praticamente, scusate, ma la storiella di Babbo Natale che costa di più chiedere una multa che essere pagati è una fesseria che viene raccontata per il popolino che ci deve credere, no? Perché bisogna dargli, bisogna dargli una giustificazione al popolino, eh? Le cancelliamo non perché facciamo un favore a chi non paga le tasse, ma le cancelliamo perché costa di più chiederle. Una balla, ovviamente. Ma questa roba qui ve l'avevo detta anche, ve l'avevo detta, no? Chi segue il canale lo sa. Quando si parlava di cancellare le multe sotto i 1.000 euro perché non era un condono, ma semplicemente si cancellava quello che costava di più chiedere. Una balla. Una balla bella e buona. E molti di voi ci sono ah, ci sono cascati con l'amo, ah, ci hanno abboccato con tutto. Ecco, bravi, insomma. Pensate con la vostra testa, pensate, pensate, non vi fate far su dai politici che vi raccontano le storie di Babbo Natale. Pensate con la... Ma i politici ci giocano con questo, lo sanno che molti non pensano, che ripetono come dei pappagalli quello che dice il proprio capo carismatico. Infatti i comuni hanno detto, ma col cavolo che le cancello, pagate! Ma non costava di più chiederle? No! Perché, allora, se voi avete una multa da 1.000 euro, la cartella che vi arriva a casa, che non è una cartella, ma la cartella esattoriale che vi arriva a casa, c'è scritto 1.000 euro più 150 di spese di riscossione. Quindi la storiella che le spese di riscossione sono più alte del 1.000 euro? No! La multa è maggiorata delle spese di riscossione. Quelle spese di riscossione non vengono cancellate. Le dovete pagare. Vengono cancellati solo gli interessi. Voi dovete pagare 1.000 euro di multa più le spese di riscossione 150 euro, però vi tolgono gli interessi che avete maturato, quelli ve li tolgono. Ma i 1.000 euro più le spese di riscossione dovete pagare. Quindi i 1.000 euro non sono compresi di spese di riscossione che continuare a mandare raccomandate alla fine vi costa di più. No! Perché le spese di riscossione, le raccomandate e tutto il resto, ve le aggiungono ai 1.000 euro. Capite perché era una balla quella che vi raccontavano? Comunque, io ve l'ho detto e tanti invece il cattivo sono io che dice delle cose... un cattivone sono io, un cattivone perché vi dico le cose che non volete sentirvi dire. E invece ve le dirò lo stesso, anche se non vi piace. È così. I comuni dicono, soprattutto Roma e Milano, dicono col cavolo che io cancello le cartelle esattoriali, andate a pagarle come gli altri cittadini le hanno pagate. Anche voi che non le avete pagate andate a pagare multe e tributi, come tutti gli altri. Anche perché quei soldi ci servono, ma non costava di più richiedere. Ma cosa costava di più? Ecco, pertanto il magazzino crediti dell'Agenzia delle Entrate che conta 19 milioni di italiani con debiti pendenti da 1.132 miliardi di euro. Di crediti definiti che vengono definiti inesigibili perché non li vogliono pagare. Pensate che ci sono 1.132 miliardi di euro di crediti. Pagando tutte le multe che gli italiani non hanno pagato, si andrebbe quasi a dimezzare il debito pubblico. Il debito pubblico cos'è? 2.500 miliardi? 2.700 miliardi? Mi ricordo esattamente. Cominciate a pagare le multe. 1.132... Sapete quanto sono 1.132 miliardi? Cosa si potrebbe fare con quei soldi lì? Si potrebbe ricoprire d'oro l'Italia. 1.132 miliardi di multe e tributi non pagate. E dice, ma sono inesigibili ormai. E ormai perché lo Stato non è riuscito a farsene pagare. Ma quelli che non le hanno pagate sono ancora lì belli che vanno in giro a passeggiare. Eh sì, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.